Buonasera a tutti. Allora, orario inconsueto. Quindi vediamo se è l'orario giusto, ma comunque approfitto di questo momento di stasi, di libertà, per aggiornarvi su quanto sto facendo in mia difesa e a tutela dei miei diritti per quanto riguarda le solite questioni dovute ai procedimenti penali farsa imbastiti dalla Procura d'Imperia su imbeccamento dell'agente governativo Federico De Massis, alias Task Force Butler, amico e sodale di tanti piloti, ingegneri, agenti della Polizia Postale, avvocati ovviamente componenti del comitato famigerato CICAP e protetto dalla magistratura perché dipendente dello Stato in quanto stalker statale. Ora, sulla base di questo assunto, che deriva da prove acquisite in questi anni, dal 2011, quando Task Force Butler fa capolino con la sua stazza da super grasso sulla rete per operare stalking e diffamazione nei confronti di Rosario Marciano e Fratello, da quel momento in poi sono iniziati i procedimenti penali, sempre su suggerimento e con prove fasulle fornite dal Federico De Massis, il quale appunto fu identificato come tale, dipendente della Sper SPA, in quel di Abruzzo, Pescara, fu identificato solo successivamente, in qualche anno dopo e a seguito di questa identificazione il soggetto medesimo fu denunciato, correlato più volte dal sottoscritto e dal fratello per stalking, diffamazione, quindi atti persecutori più esattamente, sostituzione di persona, calugne. Ovviamente se l'è sempre cavata perché è un dipendente governativo, un dipendente dello Stato, cioè si becca lo stipendio, oltre a quello che già prende presso la Sper SPA, che, mi informo, è un'azienda che fornisce servizi nel campo petrolifero, vi ricorda qualcosa? E sulla base di questi eventi, logicamente, il De Massis ci è andato a nozze, perché sono stati scaturiti diversi processi, a carico mio e mio fratello, con altre condanne inaudite basate su falsità, condanne di primo grado, quindi non definitive, e nel procedimento di cui lo stesso Federico De Massis è ben informato, tant'è che aveva anche comunicato direttamente con la parte lesa, tra virgolette, l'avvocatessa Omissis, adesso è inutile che vi faccia i nomi, perché tanto chi è interessato sa benissimo a chi mi riferisco, sulla base di questo è scaturito un processo, del quale, come ripeto, il Federico De Massis è ben informato, per quanto io non ne abbia mai parlato in giro, ma lui sa benissimo che questo processo è stato istruito, incautamente ed ingiustamente, perché l'accusa sarebbe di diffamazione quando il sottoscritto non ha fatto altro che segnalare all'ordine degli avvocati di Imperia il comportamento deontologicamente non corretto dell'avvocatessa Omissis, la quale, frequentando la pagina di diffamazione di Task Force Butler, presentava alcune osservazioni, diciamo così, in merito al comportamento, secondo lei discutibile, dell'avvocato Fabrizio Spigarelli, che all'epoca era il nostro difensore di fiducia e che adesso non lo è più, perché è deceduto prematuramente all'età di 43 anni per cause non ben chiarite, tant'è vero che l'autopsia non è stata mai condotta. Ora, cosa succede? Che il giudice che dovrebbe, tra virgolette, giudicare il sottoscritto in un processo nel quale la parte lesa sarebbe questa avvocatessa Omissis che ha frequentato Federico De Massis sulla sua pagina di diffamazione, che non è mai stata chiusa dalla Polizia Polostale e dalla magistratura nonostante le nostre reiterate segnalazioni, il giudice, ripeto, che dovrebbe processare in maniera da arbitro, quindi imparziale, il qui presente Rosario Marcianò, è la stessa, è lo stesso giudice che ha archiviato un procedimento a carico di Federico De Massis scaturito da una nostra querela. Voi capite che se un magistrato archivia un procedimento contro Federico De Massis non può poi arrogarsi il diritto, secondo quello che non dice Rosario Marcianò, ma la legge, di giudicare imparzialmente l'imputato, che è parte lesa in quanto il Federico De Massis ancora oggi opera attivamente non solo sulla rete, ma anche con messaggi di stalking quasi quotidiani sull'unica linea di comunicazione che ha ancora, e cioè l'area dei commenti che è sotto moderazione del blog Tancheremi. Ora vi leggo quanto ho scritto oggi e che domani spedirò per via raccomandata con ricevuta del ritorno presso la Procura di Imperia e presso la Procura di Torino, Procura competente per i reati commessi dai giudici imperiesi. Leggo così poi non possono insabbiare perché adesso saprete che io ho scritto e ho comunicato alla Procura quanto vi leggo ora di seguito. Salterò alcuni punti che hanno a che fare con alcuni nomi per evitare di fornire altri punti, altri spunti al Federico De Massis per eseguire altre segnalazioni come suo solito fare. Il sottoscritto Rosario Marcianò, nato il 19361 a Saviano, Napoli e residente in via, tanto De Massis l'indirizzo lo sa, con la presente in riferimento al procedimento numero 5104 barra 15 RGNR virgola 709 barra 18 RGTRIB punto con prossima udienza fissata anche questa data De Massis la conosce quindi la posso dire per il 9 gennaio 2019 ed in considerazione della rinuncia all'incarico per opera del suo legale di fiducia avvocatessa Omissis, questo logicamente sul consiglio di De Massis, in forza della legge 25 ottobre 1977 numero 881 difesa motu proprio che consente di agire in tribunale senza l'ausilio di un legale e cepisce quanto segue. Il procedimento de quo fu istruito su segnalazione del già noto e denunciato signor Federico De Massis alias Task Force Butler e qui di seguito indico il link alla sua pagina su Facebook, residente in, qui Omissis non lo metto non vedo perché, visto che lui comunica anche i miei dati, residente in via maestri del lavoro d'Italia 51 a Pescara impiegato presso la Sper SRL, scusate se prima ho detto S.P.A. mi sono sbagliato, qui c'è il link all'azienda www.sper-pescara.it con sede legale ed operativa in via R. Paolucci numero 3 Pescara, codice ovviamente postale 65121 che essendo in contatto diretto con l'avvocatessa Omissis del foro di Imperia segnalò a Costei che lo scrivente era intervenuto in un forum per deplorare la condotta della succitata in relazione a supposti comportamenti non idonei del compianto avvocato Fabrizio Spiegarelli, a suo tempo legale di fiducia di chi scrive e deceduto durante la sua funzione. Nella fattispecie l'avvocatessa Omissis, proprio sulla pagina creata dal signor Federico De Massis alias Task Force Butler, sulla piattaforma sociale Facebook con l'unico intento di diffamare, perseguitare, cyberstalking, Rosario Marcianò, pagina frequentata da agenti della polizia postale nonché da avvocati, piloti, geologi, bioingegneri, medici, dipendenti ENAC, ENAV, Enea, CNR, si avventurò in azzardati giudizi sull'operato in udienza di procedimento a carico dello scrivente del legale Spiegarelli, interloquendo amabilmente agli interventi ingiuriosi nei confronti di chi scrive interventi dovuti al sullodato Federico De Massis e dei suoi sodali. Dunque lo scrivente, a seguito di codesti fatti, segnalò all'ordine degli avvocati di Imperia le incaute frequentazioni dell'avvocatessa Omissis, che dopo ricordarlo all'epoca assisteva ai coniugi Nigrelli, parenti stretti del già denunciato signor Angelo Nigrelli, alias Wasp, collaboratore ed amico del suo menzionato signor De Massis. Inoltre chi scrive denunziò per l'ennesima volta lo stesso De Massis per i reati di diffamazione, sostituzione di persona, calunnia ed atti persecutori, inutilmente come si vedrà. Entrò infatti in gioco il giudice Laura Russo, dottoressa Laura Russo, che dopo aver in un primo momento nel ruolo di pubblico ministero rigettato un'istanza di archiviazione per opera di altro pubblico ministero, infine senza validi motivi decise l'archiviazione del procedimento nei confronti del signor De Massis Federico. Costui, si ribadisce, grazie a tale incomprensibile decisione, ancora oggi ed a distanza di anni calunnia e perseguita ai fratelli Marcianò con minacce e contumelie, si vedano CFR schermate di seguito, ed agisce con alacrità al fine di favorire l'istruzione di nuovi surreali procedimenti ai danni dei fratelli Marcianò e nel contempo con lo scopo di procurare ansietà e problemi indicibili alle sue vittime designate secondo le sue intenzioni. Di seguito alcuni esempi. Task Force Butler ha lasciato un nuovo commento sul post a Silvia. Ma che bella rosicata Zrettino c'era con mio fratello Antonio. Vedo con immenso piacere che la recente condanna vi sta bruciando il culo con fuoco inestinguibile. Strecher Puppa, Zrett Ripuppa, No Mammina, No Pension Cina, Processi Giustizia Condanne. Postato da Task Force Butler in Zrett Blog, domenica maggio, giorno 6 2018 alle ore 7.31 del pomeriggio. Altro esempio, questo più recente. Task Force Butler ha lasciato un nuovo commento sul post UFO sull'aeroporto londinese di Gatwick. Spari cazzate per 74 minuti ma bastano 12 secondi a procurarti un nuovo processo. Buonanno, stracchi, strecher Puppa, strecher Zrett Ripuppa, No Mammina, No Pension Cina, queste sono le tag che inserisce, Processi Giustizia Condanne e Pignoramenti. E vado avanti. In modo inaudito il giudice monocratico cui è affidato il procedimento numero 5104-15 RGNR 709-18 RGTRIB, in cui la parte lesa tra virgolette l'avvocatessa Omissis è il togato che permise al signor Federico De Massis con l'ennesima archiviazione di proseguire con i suoi delitti di cui sopra. A questo punto si rileva l'evidente incompatibilità del giudice dottoressa Laura Russo, l'incompatibilità di cui fu peraltro inutilmente avvisata durante l'udienza preliminare l'avvocatessa che era a difesa del signor Marciano, l'avvocatessa Omissis. E qui appunto faccio una piccola correzione perché c'è una lettera di più. Scusate, proprio approfitto adesso perché questa va spedita domani. Il giudice Laura Russo in tutta evidenza da un lato protegge il signor Federico De Massis, dall'altro è chiamata a giudicare, non si comprende con quale imparzialità l'imputato tra virgolette Rosario Marciano che tra l'altro non ha mai diffamato l'avvocatessa Omissis, limitandosi a segnalare il suo contegno che non pareva corretto sotto il profilo deontologico all'interno di spazi frequentati da diffamatori incalliti e mai perseguiti dalle procure di mezza Italia. Inoltre si intende qui stigmatizzare il comportamento contraddistinto da complicità dei togati della procura imperiese. Costoro infatti si sono resi protagonisti a vario titolo ed in circostanze diverse di inique archiviazioni a danno dei fratelli Marciano da un lato, con grottesche sentenze di condanna a detrimento dello scrivente, laddove, guarda caso, le parti tra virgolette lese sono cooperatori in varie occasioni denunciati ma mai perseguiti del signor Federico De Massis e con tutti i procedimenti in questione istruiti su segnalazioni del sicofante Federico De Massis. Egli ha sempre diligentemente provveduto a fornire materiale di prova tra virgolette contraffatto alle tra virgolette parti lese usato poi dai giudici per condannare lo scrivente. Ciò chiarito e rammentato che il Tribunale d'Imperia risulta del tutto inadatto a valutare qualsivoglia caso estante il diritto dell'imputato di esigere un giudizio eco ed imparziale come da leggi nazionali ed internazionali ci riserva di adire le vie legali e la possibilità di segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura le irregolarità passate, presenti ed eventualmente future in riferimento ai fatti in parola. Contestualmente si chiede che il procedimento in questione sia senza indugio assegnato ad altro giudice e che l'udienza del 9 gennaio 2019 sia perciò rinviata ad altra data. Data firmato. Ok, allora a questo punto non penso sia necessario dilungarmi oltre, ci tenevo a farvi sapere quanto stiamo facendo in questi giorni, onde non sia come al solito insabbiata la questione relativa all'operazione di discredito e di eliminazione giuridica civile del presente qui Rosario Marcianò e del fratello, i quali non essendo obiettivi facili da un punto di vista mediatico da far fuori, si usa la magistratura come braccio armato della disinformazione che ripeto è prezzolata dallo Stato e quindi dal governo attuale, il quale continua a visitare attraverso gli ISP del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia il blog tankerenemi.com con commenti tramite utenze fasulle che arrivano dagli ISP come già comunicato del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno oltre che da ISP che risalgono alla Svizzera che mi ricorda Paolo Attivissimo e al Belgio dove diversi personaggetti tra i quali anche un giornalista che si fa chiamare Tigre della Malora guarda caso sono amici di famiglia dei nigrelli e quindi del WASP che per fortuna si è levato dalle balle perché è morto prima del tempo. Ma in attesa che faccia la stessa fine anche Federico De Massis ho pensato bene che anche la magistratura dovesse essere un pochettino sputtanata visto che questi continuano a fare il bello e il cattivo tempo infrangendo tutte le leggi e tutti i codici di procedura penale sperando che Marcianò si faccia da parte e finalmente se ne stia zitto grazie anche alla collaborazione di televisioni come Sky News 24, Rai News, Rai e compagnia bella che attraverso i loro servizi di disinformazione tentano di screditare direttamente o indirettamente il sottoscritto. Quindi penso che adesso siate abbastanza informati spero che la maggior parte di voi abbiano capito in quale situazione siamo e in quale pseudo democrazia stiate vivendo mentre vi spruzzano tutti i giorni con le cosiddette scie chimiche e quindi io per ora vi saluto perché è ora che la diretta finisca in quanto quello che vi dovevo dire per oggi ve l'ho detto ed è più che sufficiente. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, se non ci sentiamo e non ci vediamo prima vi auguro un fine anno felice e sereno con i vostri parenti, amici, familiari vari e vi rimando ad un'altra diretta. Un caro saluto a tutti.